What the fuck are you looking at? Don't fucking run away from me! I'll end you! Where you fucking go! Signor Wonka? Volevo soltanto chiederle del cioccolato. La fornitura vita di cioccolato, per Charlie. Sì, sì, tu mi piaci. Scusi, quando l'avrà? Non si serve il cocomoro, la mia vecchia! E perché no? Vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella! Brutto sacco di merda! Io ti metto sotto! Ti farò un culo così! Merda! Qui tu non riderai! Tu non piangerai! Qui si riga diritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi, tirati su! Datti subito una regolata, amico mio! Sennò io ti smito il cranio e ti cago in gola! Ma è chiaro! Io dico che la parte migliore dello schizzo da cui sei nato è colata tra le chiappe di tua madre ed ha macchiato il materasso! Ti hanno fatto con lo scarto! Guarda! Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdevitarsi! Ti terrò d'occhio! Qui si riga diritto e basta! Ti faccio vedere io! Alzati in piedi, tirati su! Ti farò un culo così! Lei è un truffatore, un lestofante, un buffone. Ecco che cos'è! Come può fare una cosa di questo genere? Alimentare le speranze di un ragazzino e poi mandare in pezzi tutti i suoi sogni! Ti farò un culo così! Andiamo Charlie, andiamocene via! Gliela farò pagare, fosse l'ultima cosa che faccio! Se Slugwart vuole succhia, succhia l'ho avrà! What the fuck? Gliela farò pagare, fosse l'ultima cosa che faccio!